Saranno circa 400 le telecamere che entreranno in funzione nelle prossime settimane sia in centro che nelle periferie di Pescara. Questa nuova iniziativa, che servirà a garantire una sicurezza maggiore in città, è stata presentata questa mattina all'interno di un convegno dal titolo Video Sorveglianza Urbana Integrata e Corretto Trattamento dei Dati Personali. Ci siamo posti a un problema. È importante avere la sicurezza, ma altrettanto importante avere la privacy. Allora noi nelle prossime settimane andremo ad inaugurare questa nuova control room che sarà fra le più tecnologiche avanzate d'Italia. Questo è un motivo di onore e importanza per tutta la nostra città. Ma allo stesso tempo oggi siamo posti questa problematica della privacy. Abbiamo dei relatori importanti che sono utili da tutta Italia perché la sicurezza sì, ma ci deve essere anche la tutela del dato, dell'immagine, la tutela della privacy del cittadino che viene ripreso. L'opera, dal costo di oltre un milione di fondi pubblici, servirà anche a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e forze dell'ordine. Noi stiamo anche facendo molto da precursore come comune. Questo è anche un motivo di vanto anche per tutti noi perché ci vede Pescara come città all'avanguardia nel territorio nazionale. Perché nel momento in cui hai delle qualità di immagini così elevate, hai una quantità di telecamere così elevate, che tutte vanno all'interno della control room che quando inaugureremo vedrete, c'è bisogno allo stesso tempo oltre questa forma di integrazione, anche di condivisione con le immagini, anche con le forze polizie. Ma non tanto nel momento in cui è soltanto c'è un reato perché lì c'è l'intervento, quindi in fase giudiziaria l'intervento è anche immediato. E credetemi è un elemento fondamentale. Immaginatevi dopo un reato il tempo di reazione, sapere subito che cosa è successo e saperlo dopo 3-4 giorni. Cioè quando arriva la telefonata noi siamo in grado tecnologicamente di dire che sta succedendo in quel momento, in quella via e magari l'alert è partito proprio dalla nostra telecamera. Però lì poi la difficoltà qual è in questo contesto? Farsi il trattamento dei dati. Ritorniamo al convegno di oggi perché poi la titolarità dei dati è in capo del comune. Stiamo trovando in questo senso anche con questi relatori, abbiamo il garante oggi della privacy, trovare delle istruzioni che ci consentono anche alle forze di polizia di verificare queste immagini tutelando la privacy di tutti.